Il mercato della discordia riunificato in piazza Roma sul lato della fontana con le bancarelle a partire dalla parte bassa di Corso Mazzini dalla traversa di via Marsala in giù. Sembra questa l'ipotesi più probabile per il futuro degli ambulanti del Corso Vecchio di Ancona, sotto sfratto dopo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che ha imposto il loro spostamento per la vicinanza con il Tribunale. Una sorta di provocazione, l'idea lanciata dopo l'accesa riunione in comune con ambulanti e categorie di spostare le bancarelle in Corso Garibaldi, mentre di Piazza Pertini i commercianti non vogliono sentir parlare. La prossima riunione è fissata per il 4 aprile, ma l'ipotesi più probabile da attuare entro l'estate sarebbe il trasloco a piazza Roma. Rioccupando la parte cosiddetta della fontana, ovvio che hanno tutti concordato nell'idea che il mercato poi dovrà comunque essere smontato entro le ore 14. Il lato piazza Roma-Fontana non sarebbe male, la cosa migliore sarebbe qua. C'è il magazzino, c'è il toasà e anche 15.000 da IMS, questa bancarella. La bancarella d'altra parte non mi piace, mi piace sempre qui. Possiamo andare, come ha detto loro, possiamo andare tutti quanti a piazza Roma. Non sembra giusto, però per favore del tribunale possiamo fare questa. Contrari allo spostamento, anche alcuni titolari delle attività commerciali di Corso Mazzini che auspicherebbero comunque più controlli e pulizia. Meno gente passa, meno si lavora tutti. Penso, no? Quindi sarebbe un danno anche per lei? Sarebbe un danno. Il sindaco avrebbe annunciato più controlli al mercato per il rispetto degli orari e per garantire il decoro. E la città di Ancona che decoro c'ha? Che c'è 250.000 bucche, c'è il piazza Cavour che è una cosa vergognosa. Che non dessero responsabilità a chi non ce l'ha.